Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo aggiornamento sui mercati finanziari molto velocemente. Oggi è la giornata degli orsi, orsi che si impossessano per il momento del mercato, dalle prime battute di scambi soprattutto del mercato europeo, ma dai future del mercato americano. Perché? Perché la notizia del momento è che Trump e sua moglie Melania, quindi Donald Trump e Melania, hanno preso il coronavirus, o almeno sono risultati positivi al tampone che si sottopongono settimanalmente. Non soltanto Trump, ma anche un membro del suo staff che viaggia spesso con lui sull'aereo, che si occupa delle conferenze stampa e quant'altro risultato positivo. Quindi tutto questo ovviamente ha fatto oscillare i mercati e gli investitori e questo ovviamente ha portato per il momento alcuni ribassi sui listini e poi lo andiamo a vedere velocemente col grafico. Ed eccolo qua il grafico del Nasdaq, che ci fa vedere subito come il future stia segnando al momento meno 1,20% dopo essere arrivato a toccare meno 1,74% proprio in corrispondenza della media esponenziale a 21 periodi, da cui poi è rimbalzato ed è tornato indietro. SP500 meno 1,12%, quindi anche l'SP500 in questo momento risente di queste notizie, ovviamente non poteva essere diversamente. In più oggi è venerdì, quindi giornata particolare per gli investitori, perché come ben sapete il venerdì in genere si cerca di portare a casa i guadagni della settimana, se ce ne sono stati. Poi mercati europei che aprono in negativo il Futsimib italiano meno 0,69%, il DAX meno 1,15%, UK meno 0,74%, la Francia meno 0,96%, l'Asia ha chiuso abbastanza negativa questa notte con il CNL50, quindi con il China 50 che ha chiuso a meno 1,74%, il CSI in realtà a meno 0,10% è rimasto abbastanza stabile, il Giappone meno 1%, ma oggi non parliamo tanto di grafici e di quello che sta succedendo, di quello che potremmo aspettarci, ma parliamo di una cosa diversa, parliamo di script e soprattutto parliamo dello script Pine che viene utilizzato sulla piattaforma TradingView, la piattaforma che io vi faccio sempre vedere è questa qua, su cui io poi baso i miei video e le mie analisi tecniche. Ora, utilizzo TradingView per un motivo semplice, allora innanzitutto io non ci guadagno niente da TradingView, per cui pago l'abbonamento a prezzo pieno perché non c'è nessuna offerta di alcun tipo che possa in qualche modo aiutarmi. Detto questo però, perché TradingView? Perché innanzitutto è una piattaforma web, come ce ne sono tante, però ha uno script molto interessante, ha un linguaggio di script molto interessante che è Pine, ma soprattutto mi permette quindi di portare i miei studi, i miei grafici su qualunque tipo di supporto, quindi al desktop, al pc, al mobile, al tablet, perché inoltre salvati i grafici io posso riportarli ovunque, basta loggarsi con il proprio account e tu hai comunque tutti i grafici. Perché adesso parliamo di script? Allora, innanzitutto perché, come vi ho detto più volte per chi segue gli altri video, cosa succede oggi giorno, diciamo ormai da un po' di anni, che molte società di investimento, molti hedge fund utilizzano dei computer molto molto potenti con dei linguaggi particolari per fare trading automatico. A cosa servono gli script? Gli script servono appunto in parte a questo, in parte a creare nuovi indicatori o modificare quelli esistenti, indicatori quali possono essere delle medie mobili, possono essere per esempio l'RSI per vedere l'ipercomprato, l'ipervenduto o cose del genere, ma soprattutto con gli script potete creare delle strategie, quindi strategie su un determinato asset che in maniera automatica possano innescare degli ordini di acquisto o di vendita. Ovviamente ci vuole molta molta pazienza, molta molta pratica e molto molto studio affinché questi script siano attendibili nel tempo. Perché ovviamente voi cosa fate con uno script quando lo create? Fate del backtesting, cioè vedete quello script lì che voi avete ipotizzato, come si è comportato nel passato, non avete certezza di come si comporterà nel futuro. Quindi lo script non va preso, messo in macchina e dimenticato. Va continuamente aggiornato, va continuamente monitorato, perché spesso ci sono dei falsi segnali e quindi va capito questa attendibilità, come va innanzitutto testata. Quindi oggi facciamo una prima, non lezione, facciamo vedere un primo esempio di come si crea uno script su Pine, ok? Uno script Pine su TradingView che potrà esservi utile e dopo di che vediamo nei prossimi video se riusciremo addirittura a creare anche delle strategie, ok? Quindi abbiamo preso per il momento un grafico vuoto, in questo caso siamo su Forex e questo è l'EuroCAD, quindi l'euro al dollaro canadese. Allora innanzitutto cosa facciamo? Allora, in basso nella vostra interfaccia di TradingView c'è l'editor Pine, vedete? Ora, normalmente se non avete selezionato dai vari indicatori qua delle piattaforme, dalle librerie pubbliche, dei script particolari, il vostro editor Pine è vuoto e soprattutto è vuoto anche il grafico. Ora cosa potete fare qua? Da apri potete decidere di creare dei nuovi script, potete creare uno script di default, un indicatore vuoto, una strategia vuota. Qual è la differenza? Che un indicatore vuoto vi permette di disegnare un nuovo indicatore che possono essere come dicevo prima, un indicatore di perventuto, di percomprato, di trend, di analisi delle candele, di media mobile eccetera eccetera, oppure potete aprire una nuova strategia, cioè la nuova strategia è quella che poi effettivamente metterà in campo le azioni di acquisto e vendita e c'è differenza. Innanzitutto andiamo a vedere cosa possiamo fare con uno script, molto velocemente. Prendiamo uno script, un indicatore vuoto. Questo qua direi che può andare benissimo, eccolo qua, guardate, vedete? Script senza titolo. Allora, innanzitutto facciamo così, gli diamo un titolo, ok? Lo chiamiamo YouTube script e lo salviamo. Eccolo qua. Ok, perfetto. Ora, vedete che qui c'è il numero, vedete che c'è scritto il titolo che noi gli abbiamo dato, qui c'è scritto addirittura tutto, bla 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 bla, che questo l'ho creato io col mio account, che è uno study, perché è uno script che tratta gli indicatori, quindi quando si tratta di indicatori qua troverete sempre la menzione study. In caso fosse invece uno script di strategia troverete strategy. Adesso dice plot, close. Allora, in realtà non significa nulla. È soltanto per un esempio di quello che si può fare, ok? Allora, innanzitutto abbiamo fatto, abbiamo creato il nostro script, gli abbiamo dato un titolo e poi questo che possiamo fare qua, il titolo lo mettiamo anche qui. Perché? Perché quello che scriviamo qui dentro dove c'è scritto study, dentro le parentesi e gli apicetti, sarà quello che poi comparirà nel vostro grafico qui sotto. Allora, vi faccio vedere, allora, youtube script, ok? Lo salviamo e guardate che ogni volta che noi modifichiamo lo script qui si incrementa la revisione, quindi ci avrete le versioni, ok? Volendo voi potete tornare indietro sulla versione, andate sulla 1 e vedete che il mio script è tornato senza il titolo che avevo messo io. Torniamo sulla 2 che è quella più recente e possiamo fare cosa? Adesso lo aggiungiamo al grafico, vediamo cosa succede. Eccolo qua. Guardate cosa ha fatto, ha praticamente disegnato l'RSI, in pratica, più o meno, anche se in realtà non è proprio vero. Allora, cosa ha fatto? Ha disegnato esattamente l'andamento dell'asset, vedete? L'ha messo qui sotto, ok? Ma l'ha disegnato come se fossero le candele. Adesso questo lo togliamo, perché messo qua così non ci interessa, ok? Lo cancelliamo e adesso facciamo un'altra cosa. Allora, cosa possiamo fare con questo scritto? Molto, molto semplicemente. Innanzitutto, potremmo, qual è il problema di TradingView? Che se non hai un abbonamento di un certo tipo, quindi da Pro, ProPlus o quant'altro, il numero di indicatori che tu puoi inserire in TradingView sono limitati, ok? Quindi qual è un buon utilizzo di uno scritto? Ad esempio, quello per disegnare più medie mobili. E come si disegnano le medie mobili? Innanzitutto, possiamo fare una cosa. Possiamo definire le variabili. Quindi, molto semplicemente, supponiamo che vogliamo disegnare la media mobile a quattro periodi. Una media mobile esponenziale. Quindi facciamo, creiamo ema4, che sarà la nostra variabile, ok? La chiamiamo ema4. Gli disegniamo un valore che è dato da ema, che è il comando, l'istruzione di Pine, che identifica le medie esponenziali. La vogliamo calcolata sulla chiusura della candela, ok? E il periodo che vogliamo creare di quella media esponenziale è a quattro periodi, ok? E qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo segnato alla nostra variabile ema4 il valore della media esponenziale a quattro periodi. Facciamo la stessa cosa, prendiamo ema9, ok? E facciamo uguale ema close, virgola 9. Ok. E adesso abbiamo creato due variabili. molto semplicemente. Quindi abbiamo creato la variabile media esponenziale a quattro e la variabile ema è il media esponenziale a quattro periodi. Adesso cosa facciamo? Le possiamo disegnare queste medie. E come le disegniamo? Facciamo così. Esattamente. l'istruzione è plot ema4, che è la variabile, quindi il valore della variabile che noi abbiamo assegnato. Adesso gli dobbiamo dire quale colore. Allora gli dobbiamo dire quale colore lo vogliamo. Allora facciamo color uguale black. Ok. Lo salviamo. Lo aggiungiamo al grafico. ho fatto un errore. Cosa ho scritto? Ho sbagliato a scrivere qualcosa? Ah ok. Allora color uguale black. Ok. Plot si va bene. Cosa che non gli piace. Version 4 ok. Study. Vediamo se overlay. Allora ema4. Ema4. Ok. Salva. Aggiungi al grafico. E scusate l'interruzione ma c'è la nuova versione di pine che è leggermente diversa dalle comandi che stavo utilizzando fino a ieri. Quindi non avevo notato che l'istruzione color è cambiata. Quindi dicevamo plot ema4 che è il valore della variabile a cui abbiamo assegnato prima. Gli diamo il colore che desideriamo. Colore. Quindi color uguale. color. Supponiamo black. Vediamo così dovrebbe funzionare. Lo salviamo. Ok. Lo aggiungiamo al grafico. ed eccola qua. Guardate. Eccola qua. Vedete che c'è questa riga nera che lo script ha aggiunto al grafico principale e questa è la ema4 periodi. Quindi stessa cosa lo possiamo fare. Quindi facciamo velocemente ctrl c e ctrl v. Lo possiamo fare diverse volte perché poi magari andiamo a definire altre variabili. quindi anche qui ctrl c, ctrl c, ctrl c, ctrl b. Prendiamo ad esempio la ema21. Ok. Poi qua mettiamo la plot ema4, la ema9 e la ema21. e li mettiamo colori diversi. Ah, mettiamo green, red. Abbiamo definito. Le salviamo. Ed eccole qua. Vedete che nel grafico, riduciamo un attimino qua che si vede il meglio, vedete che nel grafico appaiono le medie esponenziali come le abbiamo create noi nello script. Questo perché è utile? è utile perché voi potete inserire tutte le medie esponenziali che volete dentro uno script in maniera che potete utilizzare un unico script e eliminare gli indicatori che magari cominciano ad essere troppi, si affollano e potete utilizzare questi per avere più velocemente le medie applicate ai vostri script. E questo è molto molto utile in realtà ed è molto molto interessante da utilizzare. Non solo questo, potete aggiungere anche degli indicatori, potete aggiungere degli RSI, potete aggiungere dei momentum, dei commodity index, qualunque cosa. C'è una... questo... torniamo un attimo qua. C'è una libreria abbastanza ampia di cose che si possono fare per cui è molto molto interessante. Non solo, ad esempio, guardate, vi faccio vedere un piccolo esempio di strategia, che in realtà non è proprio una strategia, però è interessante perché non innesca nulla. Ma è interessante se vi serve sapere, per esempio, se una media incrocia l'altra, cosa può succedere, ok? Voglio che mi viene indicato quando una media incrocia l'altra. Allora, qual è il comando che si fa di solito? Sempre un plot, ok? Scusate. Allora, mettiamo un plot. Supponiamo che io voglio sapere quando la media ha 4 periodi, incrocia la media ha 21 periodi. Allora faccio plot. Ancora parentesi. Speriamo stavolta di non sbagliare. Metto cross, che è l'incrocio, quindi il comando incrocio. Poi metto, supponiamo, ema 4, ema 21, ok? Gli dico quindi, che voglio sapere, qual è l'incrocio che lui deve disegnare. Quindi quando la ema 4 e la ema 21 si incrociano. Non gli sto dicendo se si incrociano al rialzo o al ribasso. Ogni volta che si incrociano. Poi diamogli, dunque, l'istruzione base è il punto interrogativo. Poi gli diamo la prima media esponenziale da tenere conto. Poi adesso vado a memoria su stile, così almeno gli diamo anche, diciamo che voglio una croce. Poi diciamo, ah, line wide, line wide, ecco. Gli diciamo quanto la vogliamo spessa questa croce. Mettiamo 3. Poi gli diamo il colore. Color uguale. Color punto, facciamo black. Ok, vediamo se ho chiuso tutto. Lo salviamo. Speriamo che non è scritto stupidaggine. No, ho scritto una stupidaggine. Identify cross. Allora, non è dichiarato. Lo andiamo a dichiarare. Allora, dunque, facciamo una cosa diversa in realtà. Cambiamo la versione dello script. Allora, siccome questa che mi da lui di default è la versione 4, che è quella nuova, in cui hanno modificato diverse istruzioni, io prendo la versione 3, metto la versione 3 e facciamo così. Allora, la versione 3 è leggermente più intuitiva perché innanzitutto non richiede queste nuove variabili messe in questo modo, ad esempio, e quindi gli diamo le variabili così come erano precedentemente. Poi, nel online trovate tutto il manuale di Pine, quindi dovete andarvelo comunque a leggere un pochino perché le versioni tra 3 e 4 sono un po' differenti. Allora, questo ok, questo lo togliamo. Allora, in questo modo abbiamo black, green, red. Ok, lo salviamo. Perfetto, salvato e andato. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Le abbiamo detto, quindi abbiamo assegnato i colori alle varie medie esponenziali e in più cosa le abbiamo detto? Vai a disegnarmi sul grafico tutti gli incroci della media esponenziale a 4 periodi con la media esponenziale a 21 periodi. E me la disegni con una croce, qui lo style cross, lo spessore della croce, lo voglio di 3 pixel, immagino che sia, e il di colore nero. Adesso, qua andiamo a cercarci, allora, riduciamo un pochino, andiamo a cercarci i vari incroci. Eccolo qua, guardate qua. Eccolo qua, vedete questa croce qui? È piccolina. Allora, andiamo a disegnare un pochino più grande perché così non si vede. Facciamo magari un 5 come spessore. Lo salviamo. Eccola qua, guardate. Allora, abbiamo un incrocio qui, poi torniamo indietro, abbiamo un incrocio qua, togliamo il volume, per esempio, che non ci serve. Abbiamo un altro incrocio qui, 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 qui. Vedete che è molto interessante quando... Allora, innanzitutto perché è interessante? Perché già visivamente, se vi create questo tipo di riferimenti e se soprattutto utilizzate le medie come una parte della vostra strategia per decidere un ingresso oppure per capire un po' il trend di quel momento, vi è molto utile segnare dove si incrociano e averle visibili a prima vista, scusate. Quindi, questo è un esempio di quello che si può fare con gli iscritti. Molto semplice, potete aggiungere tutte le medie che volete. Se volete aggiungere, ad esempio, non una media esponenziale, ma una media semplice, quindi una SMA, anziché di una EMA, andate qua, create una variabile, la SMA 50, ad esempio, e la chiamiamo. Il comando PINE per la media semplice è SMA, non cambia il resto, close 50, vi date il periodo, quindi chiusura della candela e 50 il periodo. Stessa cosa qua, non cambia anche qui, ctrl C, ctrl Z, ctrl V, ok, disegnate. Non più EMA 21, aggiungiamo SMA 50, colore, che colore diamo? Orange, e voglio anche vederla un pochino meglio, line, wide, quindi gli diamo lo spessore della linea e gliela diamo a 3. Vediamo se gli piace. Gli è piaciuto. Eccola qui. E vedete, adesso, abbiamo aggiunto anche la media a 50 periodi, quindi cosa possiamo fare a questo punto? Se la media a 4 periodi vi piace vederla incrociata così, su una croce nera, sulla media a 21 periodi, potete fare la stessa cosa, magari indicando, ctrl C, ctrl V, che volete sapere quando invece la media a 21 periodi, quella esponenziale, incrocia la SMA 50. Lasciate il cross, va bene, cambiamo il colore di riferimento, mettiamo, cosa mettiamo? Verde, quindi mettiamo un green e la andiamo a salvare. Allora, eccole qua, vedete, guardate che qui ci sono due croci, si vedono un malino. Allora, facciamo una cosa, prendiamo le candele, le togliamo, mettiamo le righe. Ecco qua, vedete? Allora, qui c'è la croce verde, qui c'è una croce verde e di qua c'è un'altra croce verde. Qui è quando le medie 21 periodi e 50 periodi si sono incrociate. Vedete che questo può esservi utile, ovviamente, in caso di strategie particolari. Questo è molto utile, quindi questo dovrà essere una breve infarinatura su come creare uno script molto, molto, molto semplice. I vostri script, poi questo script qui, lo trovate nelle vostre librerie personali, quindi lo potete applicare, togliere, modificare come volete ogni volta e vedete che vi sarà molto, molto utile. Bene, questo video si basava principalmente su questo, spero che vi sia stato utile. Mi scuso per i contrattempi, ma le versioni tra 4 e 3 sono leggermente differenti, quindi non mi ricordavo adesso che sulla 4 alcune cose sono state modificate, però il concetto era questo. Spero che il video vi sia stato utile, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video, come sempre mettete un like, cliccate sulla campanellina, fate le vostre domande, stay tuned to the finger cross, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!